Vediamo quali sono le premesse alla proposta di Huerta di Soto. Lo Stato e il sistema bancario creano legalmente e illegittimamente fiumi di denaro Fiat dal nulla attraverso i privilegi della manipolazione monetaria e del credito, cose rese possibili dal fatto che la legge, con la L minuscola, la legge Fiat, ha sostituito la legge con la L maiuscola. Questo denaro Fiat consente la continua espansione dello Stato e l'espansione del credito al di là dei risparmi disponibili. La continua espansione della macchina statale e quindi dell'interventismo e l'espansione artificiale del credito creano distorsioni nella struttura produttiva del sistema economico e anche in quella psicologica delle persone, i cui effetti sono l'espropriazione della ricchezza privata e le crisi cicliche sempre maggiori seguite alla fine dal collasso. La crisi economica è una cosa positiva perché è il tentativo del sistema economico di ripulirsi degli investimenti non economicamente sostenibili prodotti dall'interventismo in generale e dalla manipolazione monetaria e del credito. Quanto più avanti ci si spinge con la manipolazione monetaria del credito, tanto più pesante sarà la crisi necessaria per riparare alle conseguenze di questa manipolazione. Ormai gli Stati e il sistema bancario si sono spinti talmente in lago la manipolazione monetaria del credito che la crisi necessaria per riparare ai danni da essi prodotti avrà dimensioni catastrofiche. Una crisi d'astinenza così forte da uccidere il tossicodipendente. La soluzione non può essere certo dare ancora più veleno al tossicodipendente, quindi più imposto interventismo e manipolazione monetaria del credito, come si sta facendo adesso, né dandogli a bere un bicchier d'acqua alle privatizzazioni che auspicano alle sine giavazzi. Huerta de Soto propone invece di ridurre il debito mediante l'abolizione della riserva frazionaria, quindi agendo sulle banche che mediante questo privilegio hanno gradualmente espropriato la ricchezza del resto della società. Ricordiamo che la riserva frazionaria è appropriazione in debita e la stampa di moneta è contraffazione. Queste due attività criminali e illegittime sono state rese legali dalla legge Fiat. Dunque la proposta di Huerta de Soto è abolire la riserva frazionaria delle banche. Per mettere fine a questo privilegio ogni banca deve essere obbligata a trasferire le sue attività a un fondo comune e a coloro che detengono conti correnti o altri conti di deposito va mantenuta la disponibilità del denaro depositato. A questi depositanti va data la facoltà di scegliere fra due possibilità mantenere i conti di deposito con garantita una riserva del 100%. Il denaro depositato sarà custodito dalla banca ma non potrà essere prestato ad altri. Il deposito quindi non produrrà un tasso di interesse contra Naturam ma avrà un costo di mercato per il correntista. L'altra possibilità di scelta per i depositanti è sostituire i loro conti di deposito con azioni del fondo comune ricevendo un numero di azioni in misura proporzionale ai loro depositi. Di conseguenza il valore nominale di queste azioni non sarebbe garantito potrebbe aumentare o diminuire e per le loro esigenze di liquidità coloro che scegliono questa seconda opzione potrebbero dover vendere parte di queste azioni ed eventualmente depositare la liquidità in conti di deposito. In questo modo verrebbe finalmente ristabilita la distinzione fra prestito in cui uno perde la disponibilità dei propri fondi e deposito in cui uno la mantiene. Si prevede che per ogni banca una parte dei depositi sarebbe convertita in azioni del relativo fondo comune. Un'altra parte non sarebbe convertita. Per la parte non convertita rimarrebbe il problema della riserva del 100%. Per superare questo problema De Soto suggerisce che la banca centrale stampi la necessaria quantità di moneta fiat e la dia alle banche. Questa stampa di moneta non sarebbe inflattiva in quanto l'unico scopo sarebbe quello di coprire i depositi ed equivalenti. Così il requisito di riserva del 100% potrebbe essere stabilito immediatamente e alle banche sarebbe impedito di generare ulteriori prestiti sulla base dei depositi. De Soto mette in evidenza che sia ART che Rottbard hanno suggerito che queste banconote stampate dalla banca centrale venissero regalate alle banche. Comunque sarebbe un boccone troppo amaro da buttare giù in quanto le banche, proprio le banche, hanno tratto profitto illegittimo dal privilegio della riserva frazionaria. Quindi regalare questo denaro alle banche permetterebbe loro di mantenere gli asset che hanno storicamente espropriato alla società. Perciò De Soto suggerisce che questi asset o attività delle banche siano usati per altri scopi, primo fra tutti l'abbattimento del debito pubblico. I titoli del debito pubblico del Paese siano scambiati con le azioni dei fondi comuni in cui sono confluiti gli asset delle banche, le azioni rimaste non allocate dopo la riforma. I detentori dei titoli di Stato riceverebbero in cambio di questi un corrispondente a montare di azioni dei fondi comuni in cui sarebbero confluiti gli asset del sistema bancario. Questa proposta eliminerebbe le obbligazioni emesse dal Governo, ne beneficerebbero tutti i cittadini perché da quel momento non dovrebbero più pagare tasse per finanziare gli interessi sul debito. Gli attuali detentori dei titoli di Stato non subirebbero conseguenze negative e se anche le subissero sarebbero molto minori di quelle che essi dovevano sapere essere quelle più probabili quando hanno investito sul debito di Paese implicitamente in banca rotta. Le banche vedrebbero i titoli di Stato in loro possesso cancellati. I titoli del debito pubblico in possesso delle banche fanno parte degli asset che coinflurebbero nei fondi comuni. Quindi cancellarli significherebbe diminuire il valore di questi asset e quindi delle azioni in possesso dei titolari dei fondi comuni. Cioè i correntisti che hanno sostituito i depositi con quelle azioni. Il problema è tuttavia superabile se nella Costituzione dei fondi comuni si tenesse conto del fatto che tutti i titoli del debito pubblico in possesso delle banche verrebbero cancellati. La proposta di Huerta dei Soto è soltanto uno stato intermedio di una proposta più ampia in 5 fasi che porta all'abolizione del corso forzoso delle banche centrali della manipolazione monetaria e del credito e quindi al ristabilimento della libertà e della legittimità in ambito monetario.